Instagram. Io non sono giovane. Non lo so. No, non lo conosco, non lo conosco. Che cos'è Instagram? Di vedere dei giovani. Di Instagram. Ce l'ho Instagram, sì. Parole inglesi che non conosco. Instagram non mi viene in questo momento, non mi viene. Instagram è uno di quelle robe lì del social. Lei Instagram lo conosce? No, non lo conosco. Quella roba lì, insomma. Per messaggistica.